per siamo di ricetta prendiamo sempre di mira come nostro obiettivo la lattuga stavolta lattuga e gorgonzola dovrete lavare un ciuffo di lattuga e tagliarlo molto finemente e metterlo da parte dovrete sbucciare due mele e tagliarle a dadine metterle in un recipiente e bagnarle con il succo di mezzo limone per non farle scurire adesso dovrete lavare otto ravanelli e tagliarli a fette dovrete sciogliere 50 grammi di gorgonzola a fuoco basso mi raccomando basso insieme a tre cucchiai di panna da cucina unire a un vasetto di yogurt al naturale il succo di mezzo limone due cucchiai di olio extravergine di oliva grezzo non filtrato sale e pepe quanto basta dovrete aggiungere ora in questo momento il gorgonzola trasferite la lattuga le mele e i ravanelli in un'insalatiera e condite il tutto con la salsina preparata saltate le verdure per amalgamare e servite e mi raccomando la figura che farete se preparata bene sarà veramente immensa un ringraziamento da roberto de angelis persiamo di ricetta vi aspetto al prossimo appuntamento